Oggi siamo in Piazza Ponte Rosso in onore del Kaiser Fest e vi portiamo con noi a mangiare australiano, seguiteci! Oliver, che cosa ci prepari oggi a pranzo? Questo è un bistecca di canguro, questo è un filetto di canguro, mettiamo prima alla cottura, due, tre, quattro volte alla sopra così, poi mettiamo con burro e vino e una specie speciale, questo è il lavander, e poi quando è cotto noi tagliamo, questo parte ancora una volta in fettina e questo è la tagliata di canguro. Francesco, com'è questo canguro da 1 a 10? Molto bene, ricorda lo straculo di manzo ed è tenerissimo da mangiare, si sente poi il sale, le spezie, veramente fatto bene. Ora Francesco assaggerai il coccodrillo, è la prima volta per te? Sì, è la prima volta, la prima volta non si scorda mai, quindi andiamo ad assaggiare il coccodrillo, carne bianca come vedete, deve essere tenerissima, infatti lo è, veramente buona. Dove possono venire a trovarti e assaggiare le tue specialità? Noi siamo adesso, fino al prossimo domenica, magari altri sette giorni, qua al piazza Ponto Rosso, iniziamo sempre alle 12 per pranzo, fino alle 10, 11 della sera.